Anche quest'anno abbiamo l'onore di accogliere in questa bellissima location nel Chiostro della Madonna alle Grazie due premi importantissimi in realtà, il premio Anna Pepe rivolto alle donne che con la loro professionalità hanno lasciato un segno e continueranno a farlo nella nostra comunità e l'altro quello alla Terramanità intitolato Gian Domenico di Sante che è rivolto a uomini e donne che sempre per il loro spirito di iniziativa e la loro importanza contraddistinguono l'essere Terramano e io sono molto onorata, molto contenta di poter venire qui anche quest'anno a portare il saluto dell'amministrazione Secondo il nostro giudizio rappresentano tutte le fasce, tutti chi si è impegnato per far crescere la nostra città quindi siamo contenti perché abbiamo un bel parterre di premiati che rappresentano sia la nostra città che la nostra provincia Sabato 25 alle ore 19 in questo Chiostro ricordiamo Alfonso Sardella, Luce Quangigliere e Mirko Papire che sono stati tre grandi poeti che hanno fatto la storia del Novecento della poesia terramana e in più verranno tutti i poeti della nostra provincia a declamare poesie sia personali che di Alfonso, di Lucio e di Mirko